Questa fase finalmente anche di ripresa con vivacità dell'attività economica c'è sicuramente tanta aspettativa da parte delle piccole imprese rispetto a questa sfida che ci aspetta per affrontare la transizione in cui le piccole imprese vogliono giocare un ruolo perché sono imprese diffuse che operano sul territorio che hanno le caratteristiche innate per giocare un ruolo fondamentale in questo percorso di cambiamento. Certo devo dire non mancano le preoccupazioni, oggi siamo in una fase particolarmente delicata dove ad esempio aumentano i costi anche connessi alla transizione stessa come questo annunciato aumento pesantissimo del costo dell'energia elettrica. Quindi sono aspettative, voglia di affrontare la sfida, voglia di esserci ma c'è anche la consapevolezza di una serie di nodi critici che però se ben affrontati possono essere sciolti e noi ci aspettiamo che per affrontare questi nodi si possa avviare un percorso in condivisione tra istituzioni, ministeri, regioni e associazioni di categoria per cercare di individuare le soluzioni migliori per ottenere dei risultati anche in termini di crescita economica e occupazionale che spesso possono essere collegati a cambiamenti di questo tipo.